Edison ha avviato recentemente un progetto sulla micromobilità elettrica urbana con l'obiettivo di sviluppare un monopattino elettrico. Questo progetto è svolto in collaborazione con il Politecnico di Milano e porterà nei prossimi mesi allo sviluppo di cinque prototipi, ciascuno con proprie caratteristiche distintive. Ne verranno testate le caratteristiche meccaniche, i sistemi di controllo e l'interazione con l'ambiente circostante. L'obiettivo è quello di sviluppare un servizio di micromobilità che sarà inizialmente sperimentato all'interno del quartiere Bovisa. Questo progetto rappresenta per Edison una spinta molto forte a promuovere delle soluzioni che semplifichino la mobilità in ambiente urbano, migliorandone quelle che sono le caratteristiche di sicurezza e di sostenibilità.